In studio Giada Giacquinta. Ancora buon pomeriggio, bentrovati a MTG. La Sicilia, come abbiamo detto più volte, è stata dichiarata zona gialla a partire da lunedì con un'ordinanza firmata ieri sera dal Ministro della Salute, Roberto Speranza, perché è stata superata la soglia consentita dai parametri nazionali sulle ospedalizzazioni e la maggior parte riguarda pazienti non vaccinati. Regole più stringenti nelle zone arancioni, che in Sicilia sono quattro. Vittoria, Comiso, Barrafranca e Niscemi. Ma facciamo il punto in questo servizio. Roberto Speranza ha deciso. Il Ministro ha dichiarato la zona gialla in Sicilia da lunedì 30 agosto perché è l'unica regione italiana ad avere superato i parametri nazionali sulle ospedalizzazioni. Il testo di occupazione interape intensiva stabilito al 10% in Sicilia è del 12,01%. Nell'area medica non critica il 19,4% contro il 15% della soglia stabilita dal Ministero della Salute. Con un'incidenza a sette giorni di 200 casi per 100.000 abitanti contro la soglia dei 50 casi di positività stabilita dal Ministero. Dalla bianca alla gialla cambia ben poco. Le differenze stanno nell'utilizzo della mascherina nel numero di persone presenti all'interno degli spazi chiusi. Obbligo di mascherina che torna sia al chiuso e sia negli spazi aperti. Le attività commerciali aperte, tranne le discoteche, grazie al Green Pass, non dovranno chiudere. Bar, pub, ristoranti aperti, anche a cena senza limiti di orari. Il limite è di quattro commensali non conviventi seduti allo stesso tavolo. Per sedersi al chiuso è necessario il Green Pass. Non ci sono limiti di orario alla circolazione. Ci si può spostare libertà in altre regioni, anche in zona gialla. È possibile raggiungere le seconde case fuori regione. Teatri, cinema, concerti e musei sono aperti. Sarà possibile partecipare agli eventi di spettacolo, prenotando i posti e sempre con l'utilizzo del Green Pass. La capienza consentita per gli spettacoli dal vivo non può essere superiore al 50% di quella massima autorizzata, una percentuale che si dimezza il 25% per gli impianti sportivi. Il Green Pass, come in zona bianca, è obbligatorio dal 1 settembre anche per salire sui treni intercity ad alta velocità, navi, tranne che per lo stretto di Messina e autobus a lunga percorrenza, oltre che sui voli nazionali, per quelli già all'estero esisteva l'obbligo, ma il Green Pass è valido solo se si è concluso il ciclo vaccinale. Con il ritorno a scuola a settembre la presenza in classe sarà sempre garantita al 100% a meno di quarantena, che dura 7 giorni per chi è vaccinato e 10 per chi non lo è. Da oggi e fino al 6 settembre Vittoria e Comito sono in zona arancione, mentre Barra Franca e Niscemi fino al 2 settembre. Nelle regioni in zona arancione gli spostamenti sono liberi per tutti, solo nel proprio comune. Dalle 22 alle 5 è previsto il coprifuoco. Gli spostamenti, le entrate e l'uscita dai territori collocati in zona arancione, sono consentiti sempre a che è provvisto di Green Pass e a tutti, ma con autocertificazione, solo per comprovate esigenze lavorative, di necessità o di salute. È sempre consentito il rientro alla residenza, al domicilio e nelle seconde case. I negozi sono aperti, compresi parrucchiari, barbieri e centri estetici. Nel weekend sono chiusi i centri commerciali. Sono chiuse palestre, piscine, teatro e cinema. Niente servizio al tavolo in mare e ristoranti. Resta consentita fino alle 22 la solo ristorazione con consegne a domicilio o ad asporto. Si può svolgere l'attività sportiva a motore all'aperto anche nelle aree attrezzate e nei parchi pubblici. La Sicilia è entrata ufficialmente in una zona moderatamente ad alto rischio, con il doppio colore, giallo e arancione. I numeri della vaccinazione sono ancora molto lontani dal target del 70% stabilito dalla regione siciliana. Il ritorno in Sicilia di misure restrittive anche per le imprese ha suscitato delle reazioni da parte delle associazioni di categoria ConfCommercio e Fipe Sicilia, temendo ripercussioni sulle imprese e sulla clientela, scrivono all'assessore regionale di attività produttive e al presidente della regione e dicono al cambio di colore delle regioni si deve accompagnare un uso più estensivo del Green Pass. Intanto ConfCommercio e Fipe Blea rivolge un invito agli associati a seguire le norme anticontagio. La Sicilia torna gialla da lunedì, un déjà vu non solo per i siciliani ma soprattutto per imprenditori e titolari di attività che si trovano a fronteggiare nuovamente delle restrizioni, in particolare in alcuni comuni colpiti da misure ulteriormente restrittive come nel caso in provincia di Ragusa di Comiso e Vittoria riprembati in zona arancione. Il ritorno alla stagione delle misure restrittive sulle imprese deve essere scongiurato in ogni modo e lo strumento migliore per raggiungere il risultato è il Green Pass. Lo sostengono il presidente regionale ConfCommercio Sicilia Gianluca Manenti e il presidente regionale di Fipe Sicilia Dario Pistorio che in una nota ha inviato al presidente della regione siciliana Nello Musumeci all'assessore regionale delle attività produttive Mimmo Turano e ai prefetti siciliani scrivono Dopo molti mesi di sacrificio aggiungono sarebbe infatti incomprensibile ricadere nelle maglie di nuove chiusure restrizioni per causa di chi ancora sceglie di non vaccinarsi aumentando con questa scelta individuale il rischio collettivo. All'evoluzione del quadro epidemiologico e il cambio di colore delle regioni si deve accompagnare un uso più estensivo del certificato dicono Pistorio e Manenti relativamente al Green Pass in particolare con l'aggravarsi del quadro sanitario si dovrebbe ampliare la platea di attività e servizi nei quali si accede con la certificazione. In questo modo, spiegano, si raggiungono tre risultati si incentiva la campagna di vaccinazione non si penalizza la stragrande maggioranza dei siciliani che hanno scelto responsabilmente di vaccinarsi e non si ferma neppure una sola impresa. Questo è il commento di Confcommercio Sicilia e Fipe Sicilia. Sul ritorno della Sicilia in zona gialla e il passaggio in zona arancione di Comiso e Vittoria Confimprese Plea invita i cittadini a seguire le norme anticontagio come senso di responsabilità in egual misura che la vaccinazione unici strumenti verso un possibile ritorno alla normalità commenta il presidente provinciale di Confimprese Pippo Occhipinti a cui fa ecco il presidente territoriale di Confimprese Plea Peppe Occhipinti che invita gli associati a un senso di responsabilità a seguire le norme e a evitare che si creino assembramenti all'interno nelle aree di pertinenza delle attività commerciali. La regione analizzi dati per singolo comune tenendo conto di vaccinati e dei contagi promuovo un'ulteriore campagna pro vaccini la Sicilia non può permettersi di tornare in arancione a dirlo il presidente di Asso Esercenti un'impresa Sicilia a salvo politino che aggiunge chi ha il green pass al diritto di poter continuare a muoversi nel rispetto delle regole solo così riusciremo a salvare le aziende e migliaia di lavoratori. E a proposito di zona gialla restrizioni i ristoratori chiedono rispetto e dicono basta al passaggio di colorazione servono regole uniche per tutti a dirlo il presidente di Cori Sicilia Raffaele Fiaccavento Il comitato dei ristoratori in Sicilia il Cori è stanco e deluso il problema non sono le restrizioni e il green pass ma la totale mancanza di rispetto a detta del comparto di un settore che vive di programmazione c'è le frigorifere piene di cibo e tavoli che vedranno scendere il numero delle presenze repentinamente personale che rischia di non lavorare ed un sistema che semplifica tutto con la regola delle colorazioni a cui adesso si dice basta basta per la miopia dell'intervento a detta del comparto infatti servirebbe una regola unica e uguale per tutti ok alle restrizioni ok al green pass alla mascherina al distanziamento al geologianizzante alle regole serrate ma per tutti i settori io faccio un esempio banalissimo io domenica scorsa avevo una pronotazione di un pullman a pranzo purtroppo questi qua non avevano i green pass io li ho dovuti rifiutare ma all'interno del pullman 50 persone come camminano senza green pass senza tampone e poi per venire a mangiare mi cercate queste cose e io sono d'accordo però dobbiamo togliere queste zone a colore diamo delle regole e così sopravviviamo tutti oppure ci pagate e non c'è niente da fare ma non potete sempre giocare sulle nostre attività l'appello poi alla regione di prendere in mano la situazione e di guardare al futuro in modo diverso si deve capire a detta di fiaccavento quali siano realmente gli interessi primari non si può operare un libera tutti e di punto in bianco portare tutti alla chiusura il governo musulmane anziché pensare a razza una volta si demette una volta lo rientrano una volta pensa come aumentare lo stipendo al suo portaborsa il dirigente e cosa vale deve pensare anche ai siciliani sulle restrizioni e il cambio di colore sentiamo cosa ne pensano gli intervistati siciliani e non la sicilia torna in zona gialla da lunedì che cosa ne pensa che devo pensare penso che la gente dovrebbe vaccinarsi intanto se vogliamo uscirne fuori dalla pandemia si dovrebbero vaccinare tutti e stare più attenti ne cambierà qualcosa il riferimento alle restrizioni no a me no assolutamente ha paura preoccupazione per il futuro ma non per me magari per le persone più anziane per mia mamma per le persone che sono magari più deboli penso che sia il risultato di tutto il turismo che c'è stato e che comunque la Sicilia una buona parte non è vaccinata ancora lei è vaccinato? sì è buono che le dico dobbiamo stare a casa dobbiamo stare più attenti ce lo meritiamo secondo lei? no per colpa di qualcuno no perché c'è troppo egoismo in giro e basta tutto qua troppo libertà c'è stata c'è stato troppo movimento la gente non siamo state non siamo state attente a comunque quando Covid non ci forra cambierà poco rispetto a come era prima ce la meritiamo? ce la meritiamo dovremmo avere di peggio e tanto non cambierà poco nella quotidianità delle persone però la prospettiva è quella che le restrizioni saranno più stringenti in futuro c'è preoccupazione per il futuro? guarda ormai secondo me è una sensazione diversa nel resto della popolazione quindi verrà gestita proprio a sentore in maniera più più tranquilla perché ormai non fa più paura come faceva paura un po' di tempo fa quindi c'è una percezione diversa della malattia della pandemia e questo si ripercuote nella quotidianità e nel numero dei casi che aumentano da chi condanna gli assembramenti a chi dice che magari si è peccato di superficialità i siciliani si preparano ad affrontare nuovamente la zona gialla oggi più che mai si chiede senso di responsabilità ma soprattutto arriva il forte appello alla vaccinazione per contrastare l'incubo del ritorno al passaggio di colorazioni con ulteriori restrizioni e sulla zona gialla non mancano i dubbi da parte di chi è in Sicilia per turismo spero vivamente che passi in fretta per togliere le mascherine e che ci vacciniamo tutti è un problema per noi turisti sicuramente però vedremo di accettare la cosa probabilmente non c'è sufficiente mentalità per affrontare questo problema per cui io protezione ne ho viste pochissime gente che gira tranquillamente senza protezione e proprio sulle nuove restrizioni e sul rialzo della curva epidemiologica si è tenuto un vertice in prefettura a Ragusa dove il massimo rappresentante del governo ha chiarito come ci sia la necessità di tenere alta l'attenzione nell'interesse sanitario collettivo convocando ulteriori incontri per verificare l'efficacia delle azioni concordate intanto il presidente della regione siciliana Nello Musumeci ha intenzione di inasprire le misure tenendo conto esclusivamente del dato della vaccinazione e non più della contagiosità Forze dell'ordine in campo al fine di garantire il rispetto delle misure di contenimento contro la diffusione del covid-19 il prefetto di Ragusa Giuseppe Ranieri ha riunito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica per fare il punto sulla curva epidemiologica e sull'ordinanza regionale che ha istituito la zona arancione per Comiso e Vittoria dove il tasso di vaccinazione non sfiora neanche il 60% e si registra un aumento dei casi di positività e di ospedalizzazione a prendere parola è stato il direttore generale dell'ASPSET di Ragusa Angelo Aliquo il quale ha chiarito che oltre alle varie attività di sensibilizzazione promosse per un'estesa campagna di vaccinazione ha anche previsto in tutti i comuni una presenza capillare di presidi vaccinali così da incentivare quanti impossibilitati a muoversi coinvolti anche i medici di famiglia fornendo loro le liste dei pazienti con l'indicazione di quelli che non hanno ancora effettuato alcuna profilassi e di coloro che hanno ricevuto la prima o seconda dose di vaccino e ciò nell'intento confinando nel rapporto di fiducia tra medico e paziente di indurre quanti ancora indecisi o perplessi a superare eventuali forme di remore i sindaci hanno assicurato la massima disponibilità per la promozione di campagne di sensibilizzazione in sinergia con i servizi sanitari anche per il supporto nella individuazione degli spazi per la vaccinazione di massa predisposti i servizi di controllo sul territorio a Vittorio e Comiso le forze dell'ordine controlleranno le fasce orarie previste per l'ingresso e l'uscita dei confini territoriali le limitazioni relative e gli esercizi commerciali una forza interistituzionale che si pone all'obiettivo di fare rispettare le disposizioni al fine di arrestare la diffusione del contagio e accelerare la vaccinazione con tavoli tecnici e comitati che dovranno essere convocati così come nelle intenzioni del prefetto Regnari con rigore e costanza in modo da aggiornarsi sull'efficacia delle azioni concordate pugno duro del governatore Nellomusumeci il quale sta valutando di estendere l'ordinanza sulla vaccinazione che riguarda le realtà territoriali che non sfiorano la soglia del 60% dei vaccinati a tutti i centri sotto i parametri di immunizzazione a prescindere dalla diffusione del contagio non si può ancora subire l'egoismo di una minoranza e l'ipocrisia di qualche politico alla ricerca di facile consenso ha dichiarato Nellomusumeci il permanere della pandemia da coronavirus pone numerosi dubbi e questioni per quanto riguarda il riavvio della scuola del nuovo anno scolastico a settembre in sicurezza e sul caso in particolare dell'istituto comprensivo De Amicis di cui abbiamo già parlato più volte sulle classi pollaio interviene il sindaco di Modica Ignazio Abate sentite io già con il responsabile provinciale ho avuto delle interlocuzioni anche burrascose la Carla More ha distaccamento dalla Cannizzara alla De Amicis che ci sono almeno 15 km di distanza e non può il dirigente provinciale stabilire di dividere il numero degli alunni per classi come se i due istituti si trovano accanto o si trovano a un chilometro di distanza il sindaco di Modica Ignazio Abate ha avuto un confronto acceso con l'ufficio scolastico regionale non si può ragionare con numeri si tratta di bambini si tratta di studenti e si deve capire che la Carlo Amore ha una distanza tra un presso e un altro di 15 km non si può ragionare soltanto con la logica dei numeri il dirigente scolastico dell'istituto Carlo Amore il preside Biazzo deve interloquire con l'ufficio scolastico regionale basta lettere deve andare lì deve parlare di persona deve fare capire il proprio punto di vista ma soprattutto deve contattare l'assessore regionale La Galla di cui ha la mail personale a seguito di un incontro da me promosso a dirlo è il sindaco di Modica Ignazio Abate che interviene così in merito al caso del plesso De Amicis della Carlo Amore dove si potrebbero registrare per quest'anno 4 classi pollaio a seguito della non conferma del nuovo personale non è un problema di aule ha sottolineato l'assessore Monisteri ma un problema di personale lo dice l'assessore Monisteri in riferimento al fatto che ieri dalla prefettura di Ragusa avevano sottolineato che l'esponente dell'amministrazione Abate aveva rassicurato sul caso della Carlo Amore avevo specificato infatti ha dichiarato la Monisteri che per quanto riguarda l'edilizia scolastica Modica è all'avanguardia diverso il caso della Carlo Amore diverso questo caso specifico perché lì si parla di personale ad intervenire su questo argomento è stato proprio il sindaco di Modica Ignazio Abate che ha invitato il dirigente scolastico a esortare il governo regionale che lui stesso ha evidenziato Abate comunque contatterà per affrontare un caso che non deve cadere nel dimenticatoio ha dichiarato Abate ma il passaggio è stato fatto cioè loro devono inviare l'email all'assessore come abbiamo stabilito per poter mettersi lui a disposizione di interloquire direttamente a Palermo per poter avere le deroghe quindi che lo facciano io l'ho voluto fare proprio una mattina una mattinata intera l'assessore si è messo a disposizione loro lo sanno hanno l'email hanno tutto quindi interloquiscono con l'assessore ed è pronto a risolverlo e voltiamo pagina sono stati liberati in cielo palloncini bianchi e rossi contro la violenza sulle donne per l'ultimo saluto a Vanessa Zappalà la 26enne uccisa con sette colpi di pistola la notte tra domenica e lunedì ad acitrezza dal suo ex poi morto suicida grande il dolore di un'intera comunità in lutto ieri in piazza Sant'Affio durante la celebrazione dell'esequio gli applausi di una comunità in lutto hanno accolto il carro funebre in piazza Sant'Affio a Tre Castagni per l'ultimo saluto a Vanessa Zappalà freddata con sette colpi di pistola alla testa dall'ex che subito dopo si è suicidato la mamma Antonella con il suo dolore inconsulabile sorretta da due donne si è avvicinata la barra bianca per Vanessa sono stati scelti i girasoli e le rose bianche il papà Carmelo è arrivato con il caro funebre al santuario dei santi martiri Alfio Filadelfio e Cirino dove sono stati cocelebrati i funerali da Monsignore Salvatore Genchi vicario generale dell'Arcidiocesi di Catania alla presenza del paroco Razio Greco dell'arciprete Don Antonello Russo e da padre Antonio Sapupo sul sagrato della chiesa nel massimo rispetto delle normative anti-covid una piazza cinturata e alla presenza delle autorità civili e militari un'omelia sull'amore che non è mai desiderio di possesso ma è sempre solo un dono perché l'amore vuole donarsi le parole di Monsignore Genchi l'amore non è mai desiderio di possesso l'amore è sempre un dono l'amore non vuole possedere l'amore vuole donarsi e solo in un dono reciproco sotto lo sguardo di Dio c'è il vero significato dell'amore il sindaco Giuseppe Messina è stato a fianco alla famiglia promuovendo iniziative a ricordo di Vanessa una ragazza solare rispettosa educata la definita alla fine dell'omelia il primo cittadino che è salito sull'altare allestito sul sagrato ha preso la parola ricordando che non è un delitto d'amore ma un efferato femminicidio la giunta ha approvato proprio ieri un atto con il quale l'amministrazione di Tre Castagni si impegna a chiedere la modifica delle norme in vigore e a organizzare corsi e convegni sul tema della violenza di genere avvalendosi di professionisti del settore perché la morte di Vanessa come quella di Laura e Giordana non si avana una piazza stilente dove il dolore e la sofferenza si respiravano nell'aria dove sono stati liberati i palloncini rossi e bianchi come rosso era il nastro attorno al polso della mamma di Vanessa con le iniziali della figlia contro la violenza sulle donne rossi i drappi esposti sui balconi in una città in lutto con Sara cinesca abbassata e bandiera a mezzasta alla fine della celebrazione il caro funebre si è diretto verso le 20.30 al cimitero stamattina la tumulazione in un giorno in cui si fa più doloroso il distacco con Vanessa e di quel suo sorriso che rimarrà ormai purtroppo solo ricordo nel cuore di chi l'ha amata e l'ha voluta bene e ci fermiamo adesso per la pubblicità tra poco ben trovati studio seconda parte del nostro telegiornale nella notte un'auto si è ribaltata lungo la SP17 la vittoria ha scoglite ed è rimasta incastrata tra gli alberi fortunatamente i due occupanti non sono rimasti feriti è stato però necessario l'intervento dei vigili del fuoco che con l'autogru hanno recuperato il mezzo ma questo è solo uno degli interventi che ha visto impegnati i vigili del fuoco nella notte perché anche incontrata a Fontana Vecchia hanno spento un incendio all'interno di un'azienda agricola poco distante da Marina di Ragusa mentre hanno spento un'auto in fiamme a Santa Croce Camerina sentiamo la notte appena trascorsa è stata una notte infuocata è il caso di dirlo per i vigili del fuoco del comando provinciale di Ragusa impegnati in diversi interventi sul territorio uno degli interventi più impegnativi della notte si è registrato alle 3.37 quando per causa ancora in via di accertamento un'auto con a bordo un ragazzo e una ragazza si è ribaltata lungo la SP17 la Vittoria Scoglitti andando a incastrarsi tra gli alberi presenti sul ciglio della strada all'arrivo della squadra dei vigili del fuoco di Vittoria i due entrambi di 25 anni erano già fuori dall'auto e personale del 118 stava provvedendo al loro trasporto presso l'ospedale Guzzardi di Vittoria per accertamenti del caso è stato necessario l'intervento dell'autogru dei vigili del fuoco per recuperare il veicolo incastrato tra gli alberi intervenuti carabinieri e la polstrada alle 5 di questa mattina due squadre sono intervenute per un incendio divampato incontrato a Fontana Vecchia all'interno di un'azienda agricola poco distante da Marina di Ragusa un'alta colonna di fumo nero era già visibile dai dintorni e sono numerose le segnalazioni giunte alla centrale operativa l'incendio ha coinvolto principalmente 50 rotoli di plastica ancora imballati pronti per essere stese su serre di nuova realizzazione coinvolte anche alcune pedane con della rete in materiale plastico utilizzato nelle serre oltre ad altre pedane con delle cassette in plastica ancora in corso la conta dei danni il personale dei vigili del fuoco intervenuto anche con un'autobotte ha contenuto le fiamme utilizzando del liquido schiumogeno al fine di dimitare l'emissione di fumi e contemporaneamente provvedere alla salvaguardia del capannone adibito a magazzino e all'allavorazione dei prodotti aziendali sul posto anche la polizia di stato per accertare eventuali responsabilità ma dalla questura rendono noto che le circostanze e le verifiche effettuate fanno più pensare a un incendio di natura accidentale e si può escludere la matrice dolosa di natura accidentale così come confermano i carabinieri intervenuti anche l'incendio a un'autovettura a Santa Croce Camerina una squadra operativa dei vigili del fuoco di Ragusa è intervenuta alle 21.45 di ieri sera nel piazzale della stazione dei Pullman di via Puglisi dove si trovava l'auto prontamente spenta ma andata completamente distrutta dalle fiamme giornata giornata di ragucia di ragusa di ragusa di ragusa Marina di Ragusa ospitato una a due giorni iniziata giovedì di incontri e di dibattiti alla presenza di massimi esponenti del partito ieri confronto sui beni sequestrati alla mafia alla presenza dell'europarlamentare Caterina Chennici Veronica Puglisi una a due giorni intensa con dibattiti confronti su temi quali la scuola le infrastrutture l'emergenza incendi beni confiscati alla mafia e la festa dell'unità regionale del partito democratico che si è svolta a Marina di Ragusa tre le location che hanno ospitato il variegato calendario di eventi e il ricco parterre di ospiti la rotonda sul mare l'auditorium comunale la terrazza del porto il deputato regionale del PD Nello Di Pasquale ha sottolineato l'importanza delle due giornate per una serie di proposte utili alla crescita e alla valorizzazione della Sicilia penso che è stato prima dello Stato regione e enti locali sono tante le tematiche di cui stiamo affrontando e di cui stiamo parlando è una festa diversa rispetto alle altre senza musica senza rosticceria ma una festa piena di tavoli di confronto con tanti leader nazionali e regionali del Partito Democratico devo dire che è anche una partecipazione anche di non iscritti del Partito Democratico e questo mi fa piacere perché i temi riguardano questioni della nostra vita e penso che il significato della festa è proprio questo noi siamo una parte la pensiamo in un determinato modo ed è giusto ascoltare le parti e poi sviluppare il proprio pensiero al centro del confronto di ieri nella terrazza del porto i beni confiscati alla mafia opportunità e prospettive ad intervenire l'europarlamentare del PD Caterina Chinnici figlia del giudice Rocco Chinnici ucciso dalla mafia nel 1983 Noi abbiamo sicuramente una buona legge occorre però rendere più efficiente poi in fase di applicazione le disposizioni contenute nella legge e mi riferisco per esempio alla conclusione delle procedure in ambito giudiziario in tempi brevi perché sappiamo che purtroppo a volte trascorrono anni prima che un bene confiscato venga assegnato e venga dato diciamo in gestione non lo so per esempio a un comune occorre dare sostegno a tutti quanti che intervengono nelle varie fasi per riattivare e restituire questi beni alla collettività Si riparte dal dialogo ha sottolineato il segretario regionale del PD Anthony Barbagallo Sono stati due giorni di confronto su quelli che sono i temi caldi della politica siciliana dalla sanità pubblica che non va bene in Sicilia ai rifiuti e al tema degli incendi che hanno caratterizzato ahimè l'estase disastrosa del governo musulmanici Si riparte dal confronto dal dialogo e anche dalla proposta del PD per risolvere questo difficile momento di gestione della cosa pubblica Domani Ragusa si appresta a vivere l'emozione della giornata dedicata al suo patrono San Giovanni Battista La città di Ragusa si stringe attorno alla figura di San Giovanni Battista Domani non ci saranno per via delle restrizioni anti-covid-19 i solenni festeggiamenti esterni ma si terranno una serie di appuntamenti religiosi all'interno della cattedrale tra questi spicca il solenne pontificale alle 11.30 presieduto da Monsignor Giuseppe La Placa vescovo di Ragusa con la partecipazione di autorità civili e militari e religiosi è la prima volta per Monsignor Giuseppe La Placa la prima volta in quanto da qualche settimana è avvenuta la sua ordinazione episcopale alla diocesi di Ragusa un momento per lui molto sentito quello di domani lo ha sottolineato in un videomessaggio diffuso sui social nei giorni scorsi La Placa ha detto di affidarsi al Battista al suo messaggio lasciato in terra il solenne pontificale come detto prenderà vita alle 11.30 e al termine della celebrazione vi sarà l'atto di affidamento a San Giovanni Battista patrono della città e della diocesi di Ragusa i canti saranno eseguiti dalla corale della cattedrale a dirigerli il maestro Giovanni Giacquinta all'organo il maestro Giorgio Occhipinti ma domani altri appuntamenti si terranno alle 7 con la Santa Messa preseduta da Don Giovanni Cavalieri alle 8.30 con un'altra Santa Messa preseduta da Don Giorgio Occhipinti e alle 10 con una celebrazione eucaristica da parte di Don Giuseppe Antoci come detto non ci saranno festeggiamenti esterni in onore al patrono ma ci sarà la possibilità di rivivere quell'emozione vissuta sino al 2019 sui nostri canali domani alle 21.15 su Video Mediterraneo infatti vi proporremo i momenti più belli della festa 2019 di San Giovanni Battista e prima di chiudere gli eventi dell'estate al centro commerciale culturale di Via Mattiotti a Ragusa questa sera alle 21 il teatro dialettale a cura dei superstiti a Ragusa e Ibla alle 21 note di notte musica dai balconi invece una comunicazione importante relativa alla sospensione delle proiezioni del Donna Fogata Film Festival dopo l'ordinanza di Musumeci che ha colpito Comiso il resto del programma comunicano sarà recuperato successivamente è tutto per questa edizione grazie per averci scelto